buonasera benvenuti qui dagli eventi futsal questo match di serata si sfideranno condor contro evergreen parte il match primo possesso per i condor montana riesce a tenere questo valore in campo tiro di punta palo palla ancora buona per ziveri che può calciare di nuovo per monia chiude la difesa primo brivido della partita palla in qualche modo basta verdi giacomo che è sola e trova la rete del vantaggio si sblocca quindi questo match con la numero 21 1 a 0 evergreen palla per di giacomo e solanti il portiere un'altra volta grandissima parata ancora di marianna bella azione da parte degli evergreen palla che torna di giacomo che entra in aria può calciare arriva la rete del 2 a 0 bellissima azione di squadra corale e doppietta personale per la numero 21 rischio autogol palla sul palo rischio autorete incredibile da parte di pastri ma invece poi è entrata lo stesso sfortunatissima adesso condor in questa occasione ziveri riesce a passare in qualche modo chiude bene i passetti di giacomo palla per montana che rimane lì arriva il gol del 4 a 0 con la numero 17 passivo che arriva a più 4 tutta forte passetti per affabozzi chiude 1-2 palla per lui a frischetti può calciare non colpisce bene la mia volta vince l'impallo attenzione poi di manno la fa sua finisce il primo tempo 4 a 0 evergreen si prende il match stiamo già da quest'altra parte con ziveri pallone sul destro può calciare potente e bella parata di marianna ancora una risposta solo attenzione a questa parte fa bozzi non trovo la porta ma c'è un tocco di di mano quindi para lei palla che in qualche modo rimane lì di sabatini ma c'è il miracolo di marianna e ziveri non trova la porta tu per tu nel portiere e c'è la ruota del 6 a 0 sempre con montana solo davanti a marianna questa volta è riuscita a batterla faccio le posizioni al decimo della ripresa abbiamo moretti una finta ziveri pallone di potenza e arriva finalmente il gol della numero 9 7 a 0 la relazione parla ancora per ziveri però aspetta troppo a calciare ma alla fine riesce comunque a trovare la rete dell'8 a 0 adesso di laga evergreen e c'è il gol del 9 a 0 aveva parato ma in qualche modo è entrata lo stesso sabatini arriva anche la sua rete personale 10 a 0 degli evergreen 11 a 0 ancora montana passa in qualche modo bassetti palla che la passi resta o la vischetti contro il portiere tiro risposta ottima di ziveri vai passere incredibilmente vicino al palo allora rivolata ancora montana e sono 12 timanno prova lei adesso a trovare la rete personale invece arriva il gol un po' fortunato di montana ormai manca pochissimo davvero un po' sta ancora da dietro per gli ultimi attimi della partita di giacomo che va sola palla per montana potrebbe trovare un'altra rete invece si appoggia di mano chiusa da jessica ancora montana via questo pallone finisce la partita 13 a 0 evergreen ha